Esonerato dopo una vittoria. Un caso più unico che raro, ma è successo questa mattina all'allenatore della Vispesero Giuseppe Galderisi. Il 57enne tecnico bianco-rosso è stato sollevato dall'incarico dopo 48 ore di riflessione approfondita da parte della società dopo la vittoria sul gubbio. Il nuovo allenatore sarà l'ex Arzignano Arezzo e Trapani Daniele Di Donato. Galderisi viene esonerato dopo che Domenica aveva centrato l'obiettivo settimanale, battere il gubbio, ma quanto pare non stava centrando le prospettive a lungo termine, quelle di una vis ancora troppo indietro sul piano del gioco dove stava denotando più passi indietro di quanti ne mostrasse avanti. La società ha dunque visto nella vittoria sul gubbio estremamente episodica e accompagnata dalla fortuna una sorta di polvere messa sotto il tappeto. Si decide di cambiare, esonerato Galderisi e con lui anche l'allenatore in seconda Daniele Cavalletto. Si conclude dunque nella maniera più strana, un'esperienza anomala fin dal primo giorno. Galderisi arrivò infatti a Pesaro lo scorso febbraio subentrando all'esonerato Simone Pavan. Fece in tempo a giocare una partita e a conquistare un pareggio con la fermana che di fatto valse una stagione, perché di lì a poco esplose la pandemia, il campionato andò in archivio con la cristallizzazione della classifica e quel punto di fermo fu decisivo per la salvezza. Dopodiché un lungo periodo di incertezza con lockdown vissuto in gran parte a Pesaro, dove il 3 agosto è tornato in campo per preparare una stagione che, otto giornate dopo, è stata reputata al di sotto delle aspettative estive. Galderisi dunque lascia la vis dopo due vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Il nuovo allenatore sarà Daniele Didonato. Ex centrocampista con trascorsi anche in Serie A, Didonato in questa stagione era finito sulla panchina del Trapani, dove però non ha neppure cominciato il campionato a causa dei problemi finanziari che hanno affossato il club siciliano. In precedenza, Didonato è stato allenatore della Jesina dell'Arzignano, con cui ha vinto una storica Serie D due stagioni fa, mentre lo scorso anno ha vissuto la sua prima esperienza in Serie C alla guida dell'Arezzo, dove era stato già da calciatore. Curiosità, la vis cambia allenatore a nemmeno 24 ore dall'analogo rovesciamento tecnico avvenuto nei cugini del Fano, dove ieri è stato esonerato Marco Alessandrini dopo cinque sconfitte consecutive e la squadra è stata affidata all'ex fermana Flavio Destro, che oggi ha diretto il suo primo allenamento.